Oggi siamo qui con un labirinto gigantesco Che i due si sfideranno che sono Il primo e il partecipare è Rose, ciao! Salve! E il secondo e il partecipare è lui E su si, allora vi iscrivetevi, vi dovete iscrivere E i due si sfideranno qui alla fine per trovare La cesta per la leva e in più l'uscita del labirinto con parkour E questo qua è la fine Che poi alla fine c'è la porta che possono uscire Dopo un grandissimo labirinto Io li do lo fastidio con una spada di nederite e il tridente E poi con tattissime pozioni di veleno Però 16 secondi che sono buono Allora la sfida può andare adesso al mio 3 Al mio 2, al mio 1 Siete pronti? No, no, no Andate Ok, ok, ti vieni che mi dobbiamo via un prosciutto Non voglio perderlo Uuuuh, sfigato Sfigato Ma è che? Dai, sai, è vero Non mi spingerò Io ho un prosciutto, non voglio perderlo Guardi, ma se fosse per curiero Uuuuh, uuuuh, uuuuh No, se vieni qua, ho fatto Ciao Ciao No, se vieni qua, ho fatto Ma se vieni qua, ho fatto No, voglio rischiare Ho capito Ok, no No, no Capire, capire No, no, mi ho fatto Hai proprio il po' s Εadenhall şeyler Ichi, dai, hai Ho prima c'è stato salvato érêt e lo ha appena itolo quello salvatore Sicurito va padre e lo raggi per quando non ha fatto ai segni di un po' il compito e poi non con il buon punto di vista di avere un po' per me del risultato e non è non bello che ha fatto per te 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 vado il mondo e per te 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 a un po' la prima per me città non mi faccio mandato non è un po' di una piccola siano sempre una piccola cosa vedremo ieri dalle lalate e l'ho fatta ed è tutto bene mentre stavi che roviglio che in solito manta canto tornavo da rosa andrea facendo rossi che stai facendo la sua parte del mondo ma non è vero che pari non è vero e' il meglio è vero che non è vero vai per il testo e' vero per il quale iniziamo con di un testo in un bel micolo cieco si no si il giorno ce la farò si sicuro ne ci credo io invece vai ma sei imbrogione ma sei imbrogione vabbè te la conto solo perchè sei a mezz'ora a fare sto salto muovo per me vado a vare in mezz'ora mi prego grazie e' nato il titolo per te li calcio ero ci vedo come voi non è che devi dire grazie a me mi dà un consiglio comunque non è che devi dire sempre a destra devi andare dritto a sinistra che stanno nelle case ma non so, io non so mai le due le due ok per ora in mente che rosa e stefanic stanno facendo il labirinto io faccio esplorare un po' il labirinto con il parkour che nel salato da mezzetto è stato lo stesso posto un po' noioso qua è un bel vicolo cieco delle teste sto facendo via a casa vai stefanic che ci crediamo non è un'altra cosa la crema di il primo della massa il giro al benito non è un problema che scappò io penso che la mia vita che voi non lo sapete non mi stai guardando il video un po' è 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 un po' no no tagliate anche tutti noi click rock quindi ballina tornare porco abbraccio l'epoca rostrazione che non ho fatto adecco l'indirizzo non è un'idea che non è un'idea che non è un'idea che non è un lavoro non è un'idea che non è un'idea che non è un'idea che non è un'idea per me albini mi sono mai rischiato cosa che si è un'idea vabbè se vengono facciate un po' di più difficile e non è questo porti o di delle tasse perché è quello di più difficile oppure con i cartelli oppure qua di quale stai per far cadere oppure quale sarà un nuovo che adesso non c'è chi è che si è finita continua nooo aiutami ho capito uccidilo 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 mi lasci約amente voore no 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 sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando uccidilo ammazzo uccidilo 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 urad per la strada sapevo proprio a te abত太 Challenge no 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 barolo di dit nut ragazzi persa andro scusate di questo imagen l'agricchia ok da un po' così da rosa potevano presenta il mio uomo posto il ritorno sd il ritorno non lo vedo ecco la proposta aia mi ha già questa sera non cadere però, io ti pinte anche il testito passito io non ho visto, io non ho visto questo, un po' secondo me è una zona che ti pide la lava la lava, il resto del mondo nooo 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 ho capito mi sapevo dove 3 se questo è vero di nuovo 1 poco hai mai non si vede ma si vede il nuovo 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 con la tua cosa ma è il tuo rapporto ok basta stanno venendo in disco rileva la chiave per via vedere la roma però la maicro ce l'ha fatto mai tutti i nostri commenti stefani stefani aveva anche l'ultimo come se è un bett ido d no se il terremoto diparte che io devo mento dentro l'intero utile a riniti e leonore un po' non sono stati all'epoca vincerebbe il mio intero sarò perché lo ok appassare se la persona non si attiva ho fatto il libro troppo il libro è un regolo a 4 per un pubblico di roma chiara un'edito a trezioni di la mia città il mio amore sono soli cunecchi per le teraporte non lo è non è non è la sua la sua la sua la sua la sua la sua come trovata la 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 il sito non è vero la cosa so questo buon blocco partito come un video di un video di riferimento o aiutate per me per me c'è l'esercizio stasera non è vero scuola appartamento vai carmina senza blocco per l'albera di valore di valore di valore di valore di valore per l'alberto sicuro scuola un'albera di valore di valore di valore ho avuto stefanic vai il video il video video con la vittoria di stefani senza ruta rosa cosa ti viene da dire niente complimenti comunque ragazzi posso dire una roba ma non si vede una roba sentiamo per me non è molto importante sentiamo vedo il video iscrivetevi al canale sentiamo shalik escusa 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 ok il video file oh eccolo rose mi ha raggiunto ciao rose salve il video può finire qua e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao yeeeeeee